Come curare e curare la meningite asettica. La meningite è una condizione che causa i tessuti che coprono il cervello e il midollo spinale a diventare infiammato. Talvolta, l'infiammazione può verificarsi come risultato di un'infezione batterica. Questo è noto come la meningite batterica. Quando l'infiammazione non è causata da batteri, la condizione è chiamata meningite asettica. I virus causano la stragrande maggioranza dei casi di meningite asettica, che è il motivo per cui la condizione è nota anche come la meningite virale. Meningite asettica è più comune di meningite batterica, ma i suoi sintomi sono di solito meno gravi. Complicanze gravi sono rare e la maggior parte delle persone completamente recuperare entro due settimane dopo l'insorgenza dei sintomi. Quali sono le cause meningite asettica? Circa la metà di tutti i casi di meningite asettica sono causati da virus stagionali comuni nella tarda estate e inizio autunno. I virus che possono causare la meningite asettica sono i seguenti. Varicella. IV. Herpes simplex. Parotite. Morbillo. West Nile. Rabbia. Si può prendere questi virus per entrare in contatto con la tosse di una persona infetta, la saliva, o di materia fecale. È inoltre possibile ottenere alcuni di questi virus da una puntura di zanzara. In rari casi, altre condizioni possono portare alla meningite asettica. Questi includono. Infezione fungina. Sifilide. Malattia di lime. Tubercolosi. Allergie a farmaci. Malattie infiammatorie. Meningite asettica possono sviluppare rapidamente o nel corso di diverse settimane, a seconda del tipo di microrganismo che ha causato la condizione. Chi è a rischio di sviluppare meningite asettica? Chiunque può ottenere la meningite asettica, ma i tassi più elevati si verificano tra i bambini sotto i 5 anni. I vaccini che proteggono i bambini da meningite batterica non sono sempre efficaci contro la meningite asettica, che è causata da virus e altri organismi. I bambini che frequentano la scuola o cura di giorno sono ad aumentato rischio di contrarre un virus che può causare meningite asettica. Gli adulti che lavorano in strutture tesi sono a rischio. Le persone sono più probabilità di sviluppare la meningite se hanno una condizione che indebolisce il loro sistema immunitario, come l'AIDS o il diabete. Quali sono i sintomi di meningite asettica? I sintomi di meningite asettica possono variare a seconda del virus o condizione medica che ha causato. A volte, i sintomi non emergeranno fino a quando la condizione originale ha fatto il suo corso. In generale, comunque, i sintomi di meningite asettica in bambini e adulti includono La febbre Brividi Mal di stomaco Un doloroso mal di testa Dolori muscolari Sensibilità alla luce, o fotofobia Una perdita di appetito Vomito Fatica Neonati e nei bambini possono presentare i seguenti sintomi La febbre Irritabilità e pianto frequente Povero mangiare Sonnolenza o disturbi del risveglio dopo il sonno Meningite asettica è spesso una condizione mite, e si può recuperare senza farmaco o trattamento. Dal momento che molti dei sintomi sono simili a quelli del comune raffreddore o influenza, non può mai nemmeno sapere che hai avuto la meningite asettica. Questo rende meningite asettica diversi da meningite batterica, che provoca sintomi Gravi e può essere pericolosa per la vita. Tuttavia, si dovrebbe comunque cercare un trattamento medico se si sospetta che voi o il vostro bambino ha la meningite asettica. Senza un esame medico, può essere difficile dire che tipo di meningite si ha nelle prime fasi. Meningite asettica può anche causare pericolose complicazioni, in alcuni casi, ed è importante per il medico per monitorare la sua condizione fino a recuperare. Si dovrebbe chiamare il medico il più presto possibile se voi o il vostro bambino ha uno qualsiasi dei seguenti sintomi. Un rigido, doloroso collo Una debilitante, persistente mal di testa Convulsioni Questi possono essere i segni di un'altra condizione medica più grave. Come viene diagnosticata la meningite asettica Se il medico sospetta di avere la meningite, faranno ordinare alcuni test per determinare se si dispone di meningite asettica o meningite batterica. Nella maggior parte dei casi, il medico effettuerà una puntura lombare o toccare spinale. Un colpetto spinale, che estrae il liquido cerebro spinale dalla vostra spina dorsale, è l'unico modo definitivo per la diagnosi di meningite. Fluido spinale è costituito dal cervello e circonda il cervello e il midollo spinale per proteggerlo. Il vostro fluido spinale avrà alti livelli di proteine e contare un aumento dei globuli bianchi se avete la meningite. Questo fluido può anche aiutare il medico a determinare se i batteri, virus o altri agenti infettivi causano la meningite. Il medico può anche ordinare ulteriori test per determinare il virus specifico che ha causato la meningite asettica. Questi test possono includere esami del sangue o test di imaging, come raggi X e TAC. Come viene meningite asettica trattati? Le opzioni di trattamento possono variare a seconda della causa specifica della meningite. La maggior parte delle persone affette da meningite asettica completamente recuperare senza trattamento medico specifico all'interno di una o due settimane. Ti verrà richiesto di riposare, bere molta acqua, e prendere i farmaci per contribuire ad alleviare i sintomi. Gli analgesici e farmaci anti-infiammatori possono essere raccomandati per il dolore e il controllo febbre. Il medico potrebbe anche prescrivere farmaci specifici se la meningite asettica è stata causata da una infezione fungina o da un virus curabile, come l'herpes. Qual è la long-term outlook? Pochissime persone con meningite asettica finiscono con una malattia che dura. La maggior parte dei casi si risolve entro una o due settimane dopo l'insorgenza dei sintomi. In rari casi, meningite asettica può portare a infezioni cerebrali. Le complicazioni sono più probabilità di verificarsi se non cercare un trattamento per la sua condizione. Essi possono anche verificarsi se si dispone di una condizione di base che indebolisce il sistema immunitario. Come può meningite asettica essere prevenuta? Voi e i vostri figli dovrebbero vaccinarsi per alcuni virus che possono causare la meningite asettica, come la varicella e la parotite. È anche importante per praticare una buona igiene per ridurre il rischio di contrarre la meningite. Lavarsi le mani prima dei pasti e dopo aver usato il bagno, e insegnare ai vostri figli a fare lo stesso. Coprire sempre la bocca prima di starnutire o tossire. Si dovrebbe anche evitare la condivisione di bevande o alimenti con gli altri, soprattutto quando si è in un contesto di gruppo. È inoltre possibile impedire la meningite, facendo in modo di ottenere un sacco di riposo, mantenere una dieta sana, ed evitare il contatto con altre persone che hanno sintomi di un raffreddore o l'influenza.